raccontiamo il territorio insieme a te su youtube ogni giorno ogni settimana insieme raccontiamo il territorio le tue esperienze i tuoi luoghi simpatici i luoghi più belli dell'ambiente in cui vivi o più curiosi raccontiamo il territorio con franco e pablo e e e e e e e e e Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.